A presto! Volvemo con Persona 5! Non c'è nessuno! Sì? Se volete anche qui! Eh? Grazie a tutti! Sì! Sì! No! Willi sono passato! Non è tutto che! No, noi siamo persociare! Perchè fai... È anche per esempio! Si è un caso! IlPBB come gioco il nuovo incerito. Ma è un cattato dei raccetti, Ah, questo mi ha toccato, credo io. Ha il verde da tutti gli occhi. In Volei intercepta informazioni? Ah, aspettate, e come non ho sentito parlare di lei? Ah, è anonimo! Ah, non è... Ah, Akechi, perché in questo momento la vita... Sì Non c'è nessun rapporto, non c'è nessun rapporto, non c'è nessun rapporto di più. Allora, guarda la casa. E poi... Ah, non... Non c'è nessun rapporto. Non c'è nessun rapporto. Inoltre, inoltre, inoltre. Inoltre, inoltre. Inoltre, inoltre. Inoltre. Oh. Inoltre. Oh. Grazie a tutti 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 I can't force it, but yeah That's why I can't get out Yeah That's why I can't get out of here I can't get out of here No? I can't get out of here I can't get out of here I can't get out of here Oh my God I can't get out of here 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 With Romeo Alegio Mmm 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 Mmmm Mmm Mmm Sì Probabilmente Probabilmente Grazie Grazie Se dice questo, questo significa che ora mi aiutare con i critici, no? Yeah, ah no Well, Baton Pass è molto meglio che quello dei critici Asi che sì Non si, la scuola è la scuola Sì Non ci sono così No, la scuola è di tutti Sì Non ci sono Sto 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 mi pareva hai letto ee nome sonava di rimardo sospechoso ah hai letto hai letto Sì I'ma fire in my light sir Oh Yeah I'ma fire in my light sir Okay Sure Sure Come here Hmm 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 No He's not going to go to the floor Yeah Oh Oh shit son Hmm 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 go for the money ok 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 Ehm... 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 That's cool. Ah! Probabilmente eso quiere decir que si yo vengo durante el día ella viene a las cartas y yo puedo escoger qué tipo de lectura me voy a hacer. That's cool. Un po' di tutto. Un po' di più... Oh, questo... Voi, sei un po' di più perché vendi piedera di salas. Ehm, Kendo? Supongo che è per avvanzare la storia. Ehm, ok, certo, perché non? lo?! Non si state sto chando sui? Mi chico di che non sembra il chiude il mio come voglio. Sì, è tutto. andate, 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 andate. Alla prossima. 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 Ah, sì. 9 9 9 10 12 12 13 15 15 15 15 bisogna lavorare con loro solvio il nome per fuck's sake fuckify, no? è interessante poter vedere chi è lo che hicieron lo otro 100% durmiò perché? perché non c'è nessuna cosa c'è? oh yeah criminal catfight oh yeah chi è? chi è? Sì, sono riuscita Tranquilo, tranquilo Si mi arriva un messaggio No, poi ora si va a ser, può essere la ironia E noi vediamo la prossima parte E noi vediamo la prossima parte di Persona 5 Quando siamo Vabbiamo Vabbiamo Ciao